Alla mesia terme l'attesa del Natale continua a suscitare gioia tra i grandi e tra i più piccini. La serata di domenica ha visto come protagonisti il gruppo motociclistico I Compatti in Piazzetta San Domenico, affiancato da Avas, accolti con entusiasmo e applausi, insieme alla presenza dei mezzi di soccorso e sicurezza. Oltre ai mercatini e agli eventi con trampolieri e artisti di strada, si è aggiunto un sentimento importante, la solidarietà. I centauri del corteo partito da Sant'Eufemia hanno fatto visita al reparto di pediatria del Giovanni Paolo II, portando strumenti medici, giocattoli e dolci ai giovani pazienti. Il corteo, composto da motorombanti, 500 d'epoca e quad, ha attraversato le vie di San Biase prima di stabilirsi al nosocomio cittadino. I Compatti, mascherati a festa, hanno poi percorso le principali vie di Nicastro, fermandosi in Piazzetta San Domenico. Qui, insieme alle associazioni presenti, si è svolta una grande festa natalizia, condoni, dolciumi, popcorn e gadget per i più piccoli. Tata Mary, la mascotte di Super Animation e Babbo Natale hanno intrattenuto i bambini, che hanno anche potuto scattare foto con lui. Tata Mary! Grazie!